L'ospedale di Popoli sarà in deroga alla legge Lorenzin non più fino all'aprile del 2020 ma fino al 2021. Un anno in più di vita quindi per il nosocomio del Pescarese che già aveva ottenuto una proroga di 36 mesi in virtù di un emendamento al decreto Lorenzin sul terremoto a firma dei parlamentari abruzzesi che consente appunto una deroga di tre anni rispetto alla legge di riordino della rete ospedaliera nazionale. Il Movimento Avanti Tutta per la salvaguardia dell'ospedale di Popoli già a metà novembre aveva organizzato un incontro presso il Comune di Popoli a cui erano stati invitati tutti i deputati che nel febbraio del 2016 avevano dato vita all'emendamento esponendo ai politici una proposta di nuovo emendamento alla finanziaria 2018 per estendere la proroga fino al 2032. L'emendamento è stato presentato alla Camera ad Antonio Castricone subendo però il veto del Ministero dell'Economia e della Ragioneria di Stato che ha così costretto ad una variazione, cioè l'ulteriore proroga per soli 12 mesi. Il Movimento Avanti Tutte in una nota esprime comunque la propria soddisfazione per l'emendamento approvato ribadendo che la lotta per la salvaguardia dell'ospedale di Popoli non è ancora terminata e che questo lasso di tempo aggiuntivo servirà a lavorare alla presentazione assieme ai sindaci del Centro Abruzzo di una proposta di legge regionale di iniziativa popolare per rendere pienamente operativo l'ospedale riempiendolo di tutti quei contenuti che lo hanno reso grande in passato e che ora vanno riportati nel suo alveo. I cittadini non debbono abbassare la guardia, conclude il Comitato, annunciando iniziative civiche e giudiziarie volte a far rispettare le leggi e quindi contro l'illecito depauperamento delle risorse umane e finanziarie perpetrate in questi ultimi tempi dalla Direzione Generale della ASL.